Dirigendo verso la chiesa parrocchiale, questo tracciato, così serciato, è stato fatto per questi olivi plurisecolari, qualcuno millenario, vicino alla chiesa di Santo Domino poi ce n'è uno proprio millenario, ma guardate che spettacolo questi patriarchi, ecco, Genuri insieme a Sini e altri paesi fanno parte dell'Associazione Nazionale delle Città dell'Olio, anche Cuglieri che è stata devastata dagli incendi nel 2022, ma anche Dolianova, per ricordare alcune, Sene che è nella nostra diocese di Oristano, Sini qui a due passi, il prossimo paese che vedremo, poi Villa Cidro. Nocce Ah sì, 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 hanno fatto un bel presepe, hanno sfruttato questo spiazzo, di tutto di più, e però scusate, avete visto che c'è una capanna della, un'altra capanna, e forse qua ci abbiamo, insomma, abbiamo tre presepi, due presepi in uno, sì, due presepi in uno. E qui qualcuno si è fatto l'orto in paese, guarda, Cavolfriori, cosa sono? Bello, guarda, guarda, 1888, è lo stesso anno in cui venivano fondate le filie di San Giuseppe di Genoni, e si faceva anche il ponte dove passare la ferrovia. Guarda qui, guarda quel limone quanto peserà, e qui abbiamo patate, vero? A sinistra, cosa sono? Patate e poi capolfiore. E c'è anche dell'ottima verdura. Capolfiore queste qua. Qui siamo in via Saggara. Questa è via Saggara. Qua è cosa? Dove stiamo parlando io con quella? No, più giù, più giù, più giù. Passiamo qui che mi sembra molto bello. E c'è il cedro, che cosa è? Perché va, è enorme. E guarda tutti e due. Guardate qui che scorci, eh? Qui c'è questa casa qua. Le tre. Guarda che le tre arcate, il tetto. Guarda lì lo giatto. Molto bello. Subicinao del Santo Domi. Santo Domenico. Bello. Questo è un altro portale solenne. Peccato. Abbandonata. La casa. Forse però questo porta verso su. Eh sì. Ci ricolleghiamo. Dobbiamo... Dobbiamo lasciare. Dobbiamo lasciare. No